io sono l'imperatore restauriamo l'impero coloniale che ci dà un casus belli di annessione contro la libia quindi vedete già abbiamo organizzato una serie di sbarchi e vediamo ragazzi vediamo questi sono in guerra da chissà quanto tempo quindi si saranno industrializzati per bene quindi attenzione però lo stato islamico libico che spero che non stia stravincendo adesso nel momento in cui dobbiamo attaccarli noi andiamo a velocità 5 ragazzi allora vediamo cosa dobbiamo fare vediamo cosa dobbiamo fare direi che i nostri template sono quasi tutti pronti mancherebbe un po di motorizzate da aggiungere qui per arrivare quantomeno a 20 ragazzi vediamo ogni carro quanto ci dà ci dà due ok va benissimo allora ricerche vediamo le nostre ricerche sicuramente le navi forse è il momento di cominciare a produrre naval invasion capacity è molto interessante quindi così possiamo avere navi da trasporto più performanti direi di piazzare subito la nostra flottina che è formata principalmente da destroyer ci mettiamo questo ammiraglio magari uno di abbiamo un ammiraglio di livello 4 abbiamo anche questo bene dai mettiamoci questo che sembra il mio professore di meccanica quantistica quindi mettiamo qui a fare un bel petrol speriamo che la libia non possieda ho visto dei nazisti sono i cavalieri di malta bellissimo bellissimo malta ragazzi ci sono questa la bandiera dei cavalieri bellissimo ragazzi sono fascisti a malta c'è un covo di fascisti bellissimo ragazzi sarebbe bello trasferirsi lì ci mettiamo tutti la l'armatura da cavaliere ospitaliera allora qui intanto siamo ma anche 40 giorni ragazzi al mega attacco al mega attacco invaderemo prenderemo il porto di tripoli e poi anche la città di misurata che la capitale dell'unione libica gheddafi noi ti veniamo ad aiutare invadendo ti perché non preoccuparti noi ti invadiamo attenzione guardate l'unione libica perché l'unione libica fatto pensate unione di lincoln ragazzi cosa sta esattamente succedendo in questa unione di lincoln nazional bolshevichi richard b spencer che sono nazional bolshevichi però ma che cazzo ma questi sono tutti in pace tra loro io pensavo una bel bel conflitto civile americano ah eccola qui vedete elisabeth seconda adesso si trova a capo dell'inghilterra quindi ragazzi qualcosa è successo in inghilterra cazzo l'inghilterra c'è pure un albero dei focus bello c'è un albero dei focus personalizzato quindi potrebbe essere interessante farci una partita multiplayer insieme in live ragazzi qualcuno si fa l'inghilterra ma perché non sto continuando ok dai manca pochissimo il regno d'italia ragazzi il regno d'italia il ritorno delle colonie finalmente finalmente ci dà la possibilità di invadere la libia che è da tempo che mi avete detto si invadi la libia noi abbiamo la nostra fazione l'italia comawelf tra l'altro siamo pure in fazione con la spagna quindi possiamo anche pensare ad un attacco combinato alla francia se non fosse nel patto di versare vediamo quante truppe hanno 40 divisioni quindi sono fortine ma soprattutto sapete chi mi preoccupa mi preoccupa lui mi preoccupa vladimir putin 126 divisioni noi invece abbiamo un esercito di una ventina 26 ecco 26 divisioni che sono il nostro esercito ancora in divenire allora brigata di carri armati mettiamoci un carro armato e poi basterà metterci un'altra motorizzata e siamo a posto sì quindi dobbiamo raggiungere 5 di experience vediamo vediamo quanto manca manca pochissimi ragazzi il re mai dire scusate non sono ancora imperatore ok mettiamo velocità 2 è il momento il momento della guerra intanto facciamo pure l'iridentismo che ci dà dei casus belli già che ci sono li facciamo oppure oppure puntiamo adesso un attimo perché qualche guerra adesso già possiamo farla quindi facciamo questo ok facciamo partire l'attacco e la flotta qui è già pronta la no il nostro supporto aereo è piuttosto scadente vediamo quanti eri abbiamo ecco questi sono porca puttana sono tutti gli aerei che abbiamo vediamo se abbiamo qualche ok fighter e cas allora che tra l'altro sono nelle portaerei cioè sono che potrebbero stare su delle portaerei allora questi sapete cosa facciamo li mettiamo qui in sicilia così possono bombardare prendiamoci un attimo ancora qualche giorno ragazzi allora questo esercito mettiamolo subito magari ecco in un porto in una zona portuale così possiamo subito farle imbarcare ok sono questi sono quasi tutti pronti per lo sbarco purtroppo non ho marine ragazzi la presa di malta potrebbe essere un obiettivo interessante ma adesso ci interessa la libia voglio i miei occoli qui i miei caz per dare supporto in mare naval strike benissimo i miei caccia sono lì che prontamente spediremo in libia per dare supporto aereo ok ragazzi siamo pronti l'ora delle decisioni irrevocabili andiamo senza alleati ragazzi non ne ho bisogno chiariamo guerra anche a loro e partiamo ragazzi partiamo tutti siamo partiti ragazzi abbiamo la superiorità si stanno partendo tutte ok tutte le operazioni vediamo ah manca la superiorità navale nel martirreno e il fidec scusate il fidec allora basterebbe un destroyer per avere la superiorità navale diamoci un ammiraglio questo tipo qui spero che basti per avere la superiorità dai che ci serve importante quella di palermo ok dai vediamo il nostro sbarco il nostro sbarco siamo in guerra con due nazioni nello stesso momento noi non chiamiamo il potentissimo bhutan o cazzo non si può chiudere a no po bagatina la moda ragazzi forse aspettiamo a farla in live ok stanno per arrivare le truppe italiane il grande ritorno il grande ritorno del sogno ridentista e coloniale italiano del regno d'italia eccoci siamo sbarcati a misurata è il momento manca lo sbarco di tripoli manca pochissimo manca pochissimo avremo tutta la costa per il momento teniamo cosa che abbiamo già preso abbiamo già distrutto l'unione libica a sì ok io non mi aspettavo che fossero così scadenti direi di fare un po di pass ragazzi non mi aspettavo che cadesse subito aveva l'unità nazionale così bassa non me l'aspettavo proprio bene mi aspettavo uno sbarco più glorioso ragazzi ma ci accontentiamo al momento ok direi che tutto questo territorio lo prendiamo ragazzi perché è importante ecco qui cos'è che rimane rimane tripoli tobruck è un po di regioni interessanti è no qui c'è da fare un mega pass ragazzi quindi perché guadagniamo 7 ok ragazzi neanche su minecraft spammavo così tanto il tasto sinistro a quanto pare appena siamo sbarcati geddafi subito si è inginocchiato davanti dinanzi al suo padrone italiano eccoci che arriva tutto il resto dell'esercito qui conquistiamo anche questo ma ok prendiamo questo ok vediamo andiamo velocità 2 ragazzi perché qui dobbiamo vedere davvero cosa sta accadendo allora vediamo un attimo mettiamo un attimo posto tutto qui abbiamo questo poi di petrolio siamo in positivo quindi per il momento ragazzi possiamo anche smetterla di importare ben ok uno magari lo teniamo perché sicuramente aumenteremo di produzione qualcos'altro quindi possiamo anche lasciarlo lì non c'è grande problema questo lo importiamo dall'indonesia la gomma l'acciaio pure e anche un po di cromo no dall'unione sovietica no dalla turchia no dal giappone ecco mi piace importare cromo dal giappone mi piace il giappone ok ci siamo allora possiamo modificare il governo abbiamo conquistato anche questo benissimo ragazzi bene cominciamo bene però questa è solo la fase iniziale ma sì cioè per prendere tutto sto versante bastava solo questo anche qui ragazzi dobbiamo spammare un pochino per adesso occuparci dei fascistoni e di tutti dei comunisti qui sarà un bel problema ragazzi ma ci pensiamo subito dopo ecco qui ragazzi ci siamo presi anche questo tratto di libia è stato per il momento molto facile per il nostro vittorio emanuele quarto allora cancelliamo un attimo tutti i piani perché adesso diventa più difficile la cosa non voglio subito interrompere l'episodio perché se no ragazzi sarebbe abbastanza imbarazzante per voi dato che è accaduto una roba velocissima quindi aspettiamo ricerchiamo la navi allora abbiamo un bel po di industria adesso a dedicare sicuramente le dedichiamo alle meccaniche allora sempre alle motorizzate poi mettiamo un po più di fucili poi mettiamo un po più di artiglieria un po più di cararmati così lo fa da solo pian piano che le costruiamo ragazzi l'ho già messe in produzione ragazzi stiamo industrializzando con una roba assurda l'italia diventeremo potentissimi intanto qui possiamo mettere qualcuno per quanto riguarda l'attrito perché tra poco ne subiremo parecchio nel deserto libico allora obiettivi qui ci sono mustafa zahidi poi abbiamo il fascistone quindi però possiamo attaccare anche da questo lato qui però non ci sono porti ragazzi quindi qui non avremo rifornimenti allora sapete cosa facciamo mettiamo subito a costruire magari qualcuno qui a tobruck un porto da 10 ecco perché per il momento quella zona non si può utilizzare per le invasioni mentre questa vediamo quant'è di porto 5 5 va già bene però rinforziamo pure questo quindi ragazzi quindi allora ci va bene possiamo organizzare uno sbarco per prendere subito lo stato islamico questo porto e andrebbe benissimo abbiamo delle risorse sì abbiamo una divisione di cararmati questa e poi chi altro qui in zona questa e questa allora che facciamo facciamo subito organizzare uno sbarco da qui ad arrivare in questa zona perfetto poi questo esercito lo facciamo controllare da qualcun altro in territorio qui vediamo abbiamo sto tipo qui out of supply mi piace un sacco quindi prendiamo lui direi che questo si potrebbe occupare di distruggere questo territorio ok li prendiamo uno alla volta questi stati tanto sono stupidi non si alleeranno mai per combattermi ci mettiamo subito e ricordiamoci del supporto aereo ragazzi che portiamo subito qui ok allora stoppiamo tutte le cose lo mettiamo tac 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 e togliamo questo e mettiamo operazioni normali ottimo adesso abbiamo la superità aerea su tutta la libia posizioniamo le truppe a confine e vediamo subito di annetterci socialisti e poi prepariamo tanto qui aspettiamo che l'invasione navale sia pronta per distruggere pure questi l'invasione la blitzkrieg del vostro mai dire non ho mica bisogno di 50 episodi per conquistarmi la libia quindi riduciamo adesso il petrolio che ne abbiamo quanto ne vogliamo e importiamo metallo e anche cromo finalmente siamo adesso tutto in positivo vi avevo promesso ragazzi che un giorno saremmo stato tutto in positivo per quanto riguarda le risorse allora rinforziamo anche le navi nuove i cantieri navali direi che dato che li stiamo costruendo pian piano mettiamo un po di missile cruiser e questi così ragazzi e siamo pronti fai partire subito l'attacco abbiamo la superiorità andiamo partire la blitzkrieg di mai dire allora mettiamo velocità 3 ragazzi vediamo come va sembra che l'attacco è devastante mi dispiace per i libici non stiamo farmando neanche un po di esperienza perché li stiamo sconfiggendo così velocemente che non c'è neanche gusto possiamo attaccare questi che erano attaccati dalle milizie dello stato islamico adesso andiamo a fare il culo pure ai terroristi ci divertiamo un po ok abbiamo preso la loro capitale prendiamo pure questo quanto ci vuole però se dovrebbero già essere a zero ok no ma basta perché devo fare tutto così a dopo ok ragazzi mi sono preso le regioni col petrolio adesso le prendiamo subito il resto invece lo pappetizziamo che palle sta che palle ma perché guadagniamo così poco allora il resto lo pappetizziamo ecco qui quindi il nostro puppet si prende il resto dei territori ecco qui perché è deserto non ce ne facciamo nulla eccoci qui ragazzi ci siamo presi ancora più petrolio vediamo di quanto siamo fuori 3 d'acciaio che importiamo sempre dal regno unito ottimo perfetto allora adesso queste qui togliamo sospendiamo pure e direi di fare un attacco massiccio da questa zona questi sono altamente militarizzati ragazzi quindi sarà molto più difficile distruggerli abbiamo bisogno anche dello sbarco purtroppo da questo lato non possiamo ancora attaccare ok spostiamo le truppe da quel lato qui abbiamo bisogno di altre truppe che possiamo attingerne da questa zona magari questa divisione di cavalleria la modifichiamo nella divisione di carri armati ok mi piace avere carri armati qui ci mettiamo 9 divisioni guarda com'è luca felicissimo beh se sei felicissimo di andare al fronte ci vai subito al fronte eccoci qui lui ha detto è felice e quindi ecco qui chissà se esiste davvero si sono inventati i nomi però la foto c'è ok li mettiamo qui in posizione ragazzi per attaccarli lo sbarco penso che sia possibile no mancano ancora 28 giorni quindi aspettiamo 28 giorni per dichiarare guerra taglione oggi mai dire distruggerà l'isis partiamo subito l'attacco andiamo portandoci anche lui dentro perché sennò da qui non possiamo attaccare quindi guerra contro lo stato islamico andiamo eccoci qui attenzione le milizie italiane sono già partite vedete non possono fare nulla dinanzi all'incredibile potenza del dello stato italiano eccoci qui sono partiti vedete tutti che vogliono entrare attenzione siamo sbarcati andiamo verso la capitale beh ragazzi ma non c'è storia dinanzi al nostro incredibile esercito super motorizzato vedete come stiamo conquistando tutto abbiamo preso anche la capitale benissimo benissimo guardate 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 la vittoria la vittoria assoluta assoluta eccoci qui abbiamo presi ok ci manca l'esperienza ma che due palle prendiamo tutto ragazzi aspetta prima prima di prendere tutto vediamo se c'è qualcosa di poco interessante no però anche per continuità va bene prendere tutto secondo me ad altronde la costa cos'è che manca ok preso tutto ragazzi perfetto allora per pacificare la libia cosa cos'è che è successo a queste ci sono a è vero ragazzi dobbiamo andare un attimo a salutare adesso il nostro generale aftar ve lo ricordate quello di cui abbiamo parlato dobbiamo andare un attimo a salutarlo fai una sorpresa degli che lui era quello che voleva bombardare le navi italiane ve lo ricordate ragazzi che ne abbiamo parlato benissimo adesso andiamo a trovare per chiedergli se ha ancora intenzione di farlo ok mettiamo subito le truppe già pronte purtroppo qui non si possono fare grandi sbarchi perfetto allora dato che adesso abbiamo dovremmo avere un porto qui più vicino un aeroporto andiamo ragazzi mentre lui no aspetta si occupa di prendere questo territorietto qui perfetto allora abbiamo qualche ricerca da fare ancora stiamo facendo i mirini laser per rinforzare la nostra fanteria eccoci purtroppo questa sarà una guerra nel deserto aspettiamo un attimo di aumentare d'organizzazione siamo quasi pronti ok facciamo partire tutti e tre gli attacchi andiamo a salutarlo ascoltami ma quindi volevi bombardare le navi italiane o mi dispiace sai quanto mi dispiace mi dispiace davvero tanto forse ti abbiamo rovinato i piani noi italiani e siamo venuti a riprenderci tutto quello che è nostro qui abbiamo già conquistato tutta una cosa imbarazzante ragazzi imbarazzante davvero quindi questi li portiamo su questo comando arrivò verso la capitale l'esercito libico era lì che si ammazzavano con le clave a combattere e poi è arrivato il mega esercito imperiale monarchico italiano interessante che non c'è stata ancora però anche la tunisia in effetti abbiamo un caso sbelli pure contro la tunisia contro chi abbiamo questo caso sbelli somalia albania libia tunisia etiopia ok generale ecco qui hanno commesso un piccolo errore la tunisia non faceva parte del patrimonio coloniale italiano ma chi se ne frega abbiamo sempre voluto prenderla però quindi sarà questa l'occasione con il vostro mai dire manca ancora un po' guardate troppo bello combattere con le motorizzate ragazzi con un esercito altamente motorizzato e ci prendiamo pure questo ma che palle anzi no ragazzi perché potrebbe prendere dei territori inutili qui c'è tre di petrolio quindi al watt lo lasciamo fuori e glielo diamo al nostro vassallo ok ci siamo fatti un altro puppet ragazzi come vedete adesso non è la mia fazione questo con chi è sì nella mia fazione perché non compaiono boh sarà un buggino questo è il nostro puppet vero sì puppet italiano e anche questo puppet italiano con il re idris bene manca pochissimo manca l'ultimo attacco da nord un attacco da nord e un attacco da est per concludere definitivamente la guerra civile vedete ragazzi così si concludono le guerre civile con le grandi invasioni anche in siria se la gente aveva davvero voglia di concludere bene quella guerra si arrivava lì si mandavano 70.000 soldati e finiva subito tanto abbiamo due divisioni di carri armati ancora allora facciamo subito partire i piani manca l'ultimo attacco ragazzi pure i comunisti fortunatamente spero che non entrino in nessuna fazione andiamo facciamo partire subito l'attacco c'è da entrare anche loro ok l'attacco è già partito vediamo come sta andando sembra che non sono ancora entrati nell'unione sovietica benissimo nel patto di varsavia ok abbiamo preso queste manca una capitale a tecante belle le mie motorizzate ragazzi mi piacciono gli eserciti così mi piacciono proprio beh direi che potete anche arrendervi no ok lì rimane una una città ecco prendiamo quella città e distruggiamo l'esercito già conquistato ma dai ma dai ma dai ok gliel'abbiamo dato al nostro puppet oh non abbiamo preso questo ma di chi è no che schifo che border goal ragazzi non me ne ero accorto l'abbiamo lasciato a loro perché l'abbiamo puppetizzati subito e vabbè poco male c'erano tante risorse vediamo ma c'erano 18 di petrolio vabbè dai ragazzi ne abbiamo già abbastanza questo è il regno d'italia ragazzi ci siamo presi una parte della libia abbiamo fatto una un puppet nella nella zona meridionale e adesso ragazzi le prossime conquiste le vedremo nel prossimo episodio ciao a tutti da mai dire al prossimo video ciao a tutti